Ancora seconda, semifinale, categoria G3 G4 Lina di classifica Bartolo Mariani, Maicon in prima posizione In seconda, l'ho già chiesa, in terza è Perugia, Taffoni E in quarta abbiamo ancora i Garlate Quindi queste le prime quattro posizioni che dovrebbero avere a Ciorciola finalissimo E in quarta abbiamo ancora una linea Grazie a tutti